Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rilascere Signore, Spirito. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rilascere Signore, Spirito. Il Granellino del 30 aprile 2020, Giovanni, capitolo 6, versetti 44-51 Il Padre Celeste, con amore materno, vuole attirarci al suo seno, ma noi rifiutiamo il suo invito. Solo quelli che hanno il cuore di bambino cercano di aggrapparsi dolcemente e teneramente sul seno del Padre Celeste. Come il leonato non sa stare senza essere abbracciato dalla madre, così il cristiano, dal cuore di bambino, non sa stare senza essere abbracciato dal Padre Celeste. Si sa che il bambino, quando diventa adolescente o poi giovane, non sente più il bisogno dell'abbraccio materno-paterno, perché riceve altri abbracci. Si dona agli abbracci degli idoli, pensando stoltamente di ricevere amore in abbondanza. Il figlio giovane ritorna ad abbracciare la mamma o il padre, quando viene deluso e ingannato dagli idoli che invece di dargli la vita, gli hanno succhiato la vita. Solo Cristo può darci in abbondanza la vita dell'amore. E l'amore di Cristo è fedele. Non ci abbandona mai. Anche quando ritorniamo a Lui, dopo averlo lasciato per anni, Gesù non ci respinge. Anzi, non vede l'ora che noi lo riabbracciamo per rimanere con Lui, che ci porta nel cuore del Padre Celeste, dove tranquilli e sereni possiamo trovare la nostra vera dimora. Amen. Alleluia. Padre Lorenzo Montecalvo dei Padri Vocazionisti. P.S. Caro donno, è un libro di Padre Lorenzo da regalare ai giovani sacerdoti, perché conoscano i dolori e le gioie del sacerdozio cattolico. Per richiederlo, telefonate ai seguenti numeri 331-3347-521 o 349-3165-354. P.S. Caro donno, è un libro di Padre Lorenzo.